Oggi cercheremo di iniziare le carte al feeder a galla. La nostra montatura è composta da un pasturatore valleggiante con un'attaccata a 50 cm di terminale. La nostra montatura è composta da un pasturatore. Ciao amici, la giornata è terminata molto bene, abbiamo preso diverse carpe e ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!